Ciao ragazzi, grazie di essere qui con noi oggi. Allora, oggi sarà un video super 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 richiesto in cui farò un semplice, diciamo più che massaggio alla schiena, farò un po' di scratching, un po' di tracing, ho anche dei pennelli per fare un po' di brushing e ho anche una gecgino cinese per fare una specie di massaggio. Adesso raccogliamo i capelli che lei ne ha tanti e lunghi e poi iniziamo con la schiena. So che in molti sarete invidiosi della mia amica, però lei si lamenta sempre. Faccio un attrezzo. Faccio un attrezzo. Faccio un attrezzo. Faccio un attrezzo. Ok, erastico. E li portiamo da una parte, così abbiamo un po' il collo libero. e comincio con un po' di scratch con le mie uncchia sulla parte superiore della schiena che secondo me è sempre quello un po' più sensibile ai grattini ai previsi e perchè si stesse chiedendo perchè sto parlando a bassa voce? la risposta è che questo è un video A S M R quindi questo è un video con lo scopo principale di provocarti i famosi prevedini quelli che ad esempio si possono provare o si provavano quando da piccoli ci facevamo i grattini della schiena così ok adesso prima di provare a scrivere un po' di parole facciamo un po' di disegni facciamo un po' di onde del mare questo è un po' di questo è un po' di con il sole con tanti tanti raggi il sole con tanti raggi E una nuvola, come oggi, mi sentivo un po' manovoloso, un soleggiato manovoloso. E un po' manovoloso, un po' manovoloso. Ok, adesso proviamo con qualche parola. Ovviamente, cominciamo con relax, per essere molto scontati. E E N A X Un po' di tapping leggero. La cosa che amo invece di più sono i cantini qui sul collo, qui che puoi scendere. Sono stupendi. E poi scendono sulle spalle, sulla schiena. Ok, allora proviamo una parola. Vediamo, vediamo, vediamo. Sveva. 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 La sveva perché non mi sapesse, è un cane. Ed è in particolare una canelina che è di razza. Sveva. 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 un libro che si chiama Le Stanze di Lavanda quindi andiamo un po' a scriverlo L-A-V-A-N-D-A e poi andiamo ho scritto una specie di la lalento iscriviamola anche in maiusco E-L-A-L-A-N ora andiamo a fare un po' di brushing anzi andiamo prima un po' con l'assaggiatore un po' con l'assaggiatore un po' sulle spalle un po' sulle spalle un po' diены vedi un po' diplesi ok allora ho una serie di pennelli ho una serie di pennelli qui e ho scelto questi tre super morbidi uno, due e tre e andiamo a fare un po' di brushing anche un po' sul collo è super morbido e vado un po' prima sui contorni della schiena in questo modo e poi vado a riempire come se fosse un copro dei riempire come in ok tiriamo sul collo sulle spalle e giù e su e giù e su e giù e su e su in questo modo in questo modo e su e su e su e su Usiamo anche l'altro Questi coperti sono bellissimi Questo è molto più largo Non ho mai capito cosa sta da questo pennello Tanto a me sarebbe più a fare video E piano, piano, piano Acosto molto bene Seguendo le forme della schiena Grazie Ora andiamo con quello più piccolo Andiamo a fare di nuovo un po' di scrittura sulla schiena Un po' di disegnini Cominciamo con un bel triangolo Facciamo un quadrato Più o meno Cancelliamo Facciamo un rettangolo Cancelliamo Facciamo un bel cerchio Cancelliamo E' una casa stilizzata A triangolo Abbiamo una porta E due finestrelle Le minuti artistiche sono veramente apprezzabili Un gamine Un gamine Con delle forme E poi abbiamo L'erba Tutta qui Il tipico disegno dei bambini Un albero Tutti i fiori di reni Un'altalena Poi facciamo Poi facciamo due nuvolette E il sole Allora io spero vi siete rilassati con questo video Adesso lascio i capelli E vi auguro una buona notte E vi auguro una buona notte L'uovo Lo rompo E si spade Scegliamo la buona notte E vi auguro una buona notte E vi auguro una buona notte E vi auguro una buona notte Una buona giornata Spero che questo video Vi abbia rilassato Vi abbia fatto quasi chiedere gli occhi Quasi O del tutto Buonanotte 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 Sogni d'oro Buonanotte